Ecco, siamo arrivati. Come ti chiami? Sandrine. Leonardo. Buongiorno, signor parondo. Ah, grazie. Piove. Sì, grazie. Eccoci qua. Non c'è quasi niente qui. Ah, no, sì, è che non mi piacciono i mobili. Fa caldo qui, no? Sì. Metto un po' di musica, ok? Ok. Bene. Bene. È una musica cubana. Vuoi un bicchiere di vino bianco? Ti va? Ma allora qualcosa c'è in questo appartamento? Sì, qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Lo sai che le case vuote creano spirali d'energia, compressa. E lo sai che tutto intorno a noi è energia, anche tra noi due in questo momento. Noi creiamo vibrazioni d'energia che si uniscono e si intrecciano. E gli oggetti sono importanti perché trasformano l'energia. Perciò se abiti per tanto tempo in una casa vuota, le vibrazioni non hanno via d'uscita. Ti tornano indietro. Ed è per questo che o ti ammali oppure diventi un po' scemo. Bene. Grazie. Grazie a tutti.